Dal 7 agosto al 3 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sono cancellati e sostituiti con bus i treni regionali della linea Foggia-Potenza Centrale. Gli interventi programmati da RFI, società capofila del progetto, sono propedeutici al potenziamento proprio della linea Potenza Foggia. I lavori dal valore di mezzo milione di euro consentiranno di incrementare la puntualità e la potenzialità della linea. Tra le attività previste il rifacimento e abbassamento del piano del ferro fra Ordona e Ascoli-Satriano, l'avvio dei lavori di protezione di un ponte oltre a ulteriori interventi nella stazione di Candela. Saranno impegnate oltre 30 persone tra tecnici di rete ferroviarie italiane e delle ditte appaltatrici. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull'intera linea e la mobilità comunque garantita da autobus sostitutivi. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Gli autobus effettueranno la fermata nei piazzali antistanti le stazioni. Informazioni di dettaglio sulle soluzioni di viaggio alternative sono disponibili nelle stazioni interessate, nonché sul sito ufficiale di Trenitalia.com e sull'app di Trenitalia. Grazie Grazie a tutti.